Arrivano le prime novità ufficiali in Casavolla e Soverato. Il nuovo direttore generale per la stagione 2016-2017 è Francesco Matozzo. Una carica importante, un segnale forte, dimostrazione di quella che sarà la nuova struttura societaria. In attesa di conoscere il risultato della richiesta avviata dalla società ionica che deciderà in quale categoria verrà inserito il Soverato, il primo pezzo del puzzle è stato incastonato. Già al lavoro per stabilire le nuove cariche e chiudere nel più breve tempo possibile le trattative in corso. Patron Matozzo abbenchiare le idee, mettere su una squadra competitiva pronta ad affrontare il futuro, che si tratti di ripartire dalla Serie 2 o dall'Olimpo del Volley e quindi Superlega. Non rimane che aspettare le prossime mosse. E a Vibo Valencia pare sia arrivato il nome del successore di Vincenzo Mastrangelo. I giallorossi sono a un passo dall'accordo con l'argentino Waldo Cantor, superando le preferenze societarie nei confronti di Montagnani, Placì e Zanini. L'ultima esperienza italiana dell'ex palleggiatore argentino risale alla stagione 2014-2015 sulla panchina del club Ravenna. Ultimo nodo da sciogliere che potrebbe avvenire già nelle prossime ore riguarda il salto di categoria. I toni giallorossi sempre più vicini alla Superlega. Da Vibo Valencia per la Cineus 24.